bentornati alla cucina del gatto oggi vedremo come realizzare un soghetto facile e veloce con il cuco ma vediamo gli ingredienti 10 pomodori rossi una carota un gambo di sedano una cipolla uno spicchio d'aglio un peperoncino olio extravergine d'oliva sale inseriamo nella ciotola del cuco la pala per impastare l'olio l'aglio e spezzettiamoci un peperoncino facciamo soffriggere per 5 minuti impostando il programma più 1 a 130 gradi peliamo la carota togliamo i fili al sedano e sbucciamo la cipolla tagliamo le verdure in grossi pezzi mettiamola nel cuco e facciamole sminuzzare alla massima velocità nel frattempo laviamo i pomodori e togliamo gli semi facciamole a pezzettini e mettiamoli nel cuco saliamo e facciamo cuocere col programma p2 95 gradi per 45 minuti ricetta ti è piaciuta clicca su mi piace iscriviti al canale alle prossime ricette del gatto